La Serie B non puoi prescindere dal livello agonistico. Se tu pareggi tutte le partite il furore agonistico, in più metti le qualità che abbiamo noi in campo, il risultato è facile, puoi vincere tutte. Però tu comunque se non metti questo furore agonistico, solo con la tecnica non puoi mai fare risultati importanti. E a noi è mancato questo pizzico di furore agonistico che comunque cercheremo di migliorare durante la settimana e cercheremo di non commettere più questo tipo di errori. Ripeto, non si può sempre giocare bene e fare calcio a champagne. Bisogna capire che anche in qualche circostanza, quando non si è in giornata, quando non ti escono determinati tipi di giocate, bisogna stare sempre attenti e concentrati e portare la partita sul lato nostro che vogliamo noi. Dobbiamo essere bravi in queste circostanze, in queste situazioni e quando si deve battagliare si battaglia, non ci si deve indietro. E forse questa caratteristica ancora non è presente in noi, ma dobbiamo sicuramente durante la settimana migliorare e cercare di limare questo piccolo difetto. È una partita molto difficile, perché conosco l'allenatore, conosco quello che richiede ai giocatori. Sarà una partita difficile, i battaglieri, loro sicuramente verranno qui e giocheranno sempre sulle ripartenze e saranno molto agguerriti. Dobbiamo pareggiare questo furore agonistico, come ho detto prima, con la Ternana e poi ripeto, mettere in atto tutte le nostre qualità, perché noi abbiamo tantissime qualità, però senza l'agonismo non può andare da nessuna parte. Io sono a disposizione del mister, qualsiasi scelta farà il mister, io sono sempre a comprare a disposizione e dare sempre il massimo per quanto riguarda, fino a quando vengo chiamato. Poi se ci sarò o non ci sarò, mi dispiace non giocare, perché vorrei fare bene, vorrei far vedere al mister Breda che comunque ci tengo a fare bene, quindi non lo so, vediamo un po' come va la settimana, però io sono sempre a disposizione. Io ripeto, lavoro durante la settimana per giocare sempre, il segreto di un gruppo vincente è quello di allenarsi sempre al massimo, chi gioca e chi non gioca. Chi gioca deve legittimare il posto di squadra, perché va legittimato, chi non gioca deve conquistarselo, questo è il segreto principale per una squadra vincente.